Identificato da un team veronese, l'interruttore molecolare che ottimizza l'utilizzo della luce nelle piante. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Plants, è stato condotto da Roberto Bassi, Luca Dall'Osto, Stefano Cazzanighe e Mauro Bressan del Laboratorio di Fotosintesi e Bioenergia del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona. Un lavoro cominciato nel 2010, in cui abbiamo generato un mutante di Arabidopsis italiana, in cui si studia uno dei meccanismi che ancora non sono molto chiari nella biologia e nella fotosintesi delle piante, in particolare la dissipazione della luce in eccesso, che può essere utile nell'ambiente naturale, quindi dove ci sono variazioni di alte luci, ma per le culture intensive in campo è un fattore limitante perché dissipa una parte dell'energia che non viene utilizzata per aumentare la biomassa e quindi aumentare la produttività delle culture, ma viene dispersa come calore. Un meccanismo appunto non è ancora del tutto noto e noi con questo mutante che abbiamo generato siamo riusciti ad entrare nei dettagli e siamo riusciti a identificare le proteine che sono coinvolte in questo meccanismo e che possono essere modificate per ridurlo in modo da mantenere sempre una fotoprotezione all'alta luce, ma a diminuire la quantità di luce che viene sprecata e non accumulata in biomassa. Il team veronese ha lavorato in collaborazione con i gruppi di ricerca dell'Università della California e dell'Università Svedese di Lund. La scoperta apre prospettive applicative interessanti. Ce ne parla Luca Dallosto. Adesso abbiamo identificato un meccanismo di fotoprotezione in una pianta modello. Lo stesso meccanismo in realtà è presente in molte altre specie, anche di interesse agronomico, è un meccanismo universale. Quindi l'idea è quella di estendere la nostra scoperta anche a specie che possono avere un impatto sull'agricoltura e quindi anche sul territorio e sulla produttività delle specie di interesse agronomico. Sicuramente la resa delle culture agronomiche è un aspetto molto importante su cui noi dobbiamo ancora lavorare. Anche sono dati dell'ONU che indicano che la produttività alimentare deve sicuramente aumentare per far fronte alle esigenze anche del pianeta. Ma anche nel nostro territorio sicuramente l'agricoltura è un comparto economico importante e quindi noi lavoriamo anche per cercare di ottimizzare la resa di queste specie agricole focalizzandoci sul meccanismo di fotosintesi.